Allora, posizione di là. Generalmente avanti. Vedi un attimo il piede col freno come ti trovi? Io andrei un pezzo. Sì. C'è qua la leva. Sì. Ti aiuto io. Ok. Allora, puoi regolare lo schienale. Di là c'è la rotella, il dato sistema. Perché con le braccia adesso si è un pochino teno. No. Vieni che avanti lo schienale. Ah, sì, sì. Se non è così, dopo ti allungi ancora. Vai, vai. Ancora un po'. Siamo ancora un po'. Ok. Aspetta qua. Così, perfetto. Ok? Ok. Cinturosezza. Tieni premuto il pedale con la prima volta di qua. Ok. E vai pure, segui pure la navetta. Vai, vai. Allora, cosa importante. Gli specchietti ti controllo sempre io. Ok. Ok? Anche in pista te li controllo io. Tu concentrati e focalizzati solo su quello che è la pista. Va bene. Ok. La macchina poi, quando saremo in circuito, potrai spingere la... Sì, anche io non so cosa dire. Il 20-22-23 non mi sono razze. Una 7-7500 giri. Va bene. Poi cambi qua a destra. Quando cambi, non lasciare l'acceleratore. Sì. Non cambiare il trattuato, quindi non c'è bisogno. Ok. Già sappiamo lì, vediamo come dice fare, se possiamo entrare o no. Ok, vai pure. Ok, che poi è stretto. Non sappiamo farlo ancora più stretto. Non so che dire, no? Vai pure. Perfetto, grazie. Vai. E poi ti metti a destra. Ok. Vado? Accelerò. Vai pure. Stai tutto a destra. Ok. A 7500 giri. Adesso, vai. 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 Poi, per' di vicino a destra. Perfetto. Passiamo lì con la venta. Ok. Ok, non facciamo la faccia di nuovo. Ok. Vai, vai, vai. Poi, passi. Vai, vai. Vai. Adesso, si è molto più. Non scuro. Vai, vai, vai. Bravo, stai vicino. Hai un'arma di più di più. E frena. E poi va a un sosta a destra. Stai vicino a destra. Perfetto. Ok, adesso la scena di uscita, no, no, il freno sarà se vuoi, ok, rimasci in verde, ma tagliala, guardiamo lì, tornate, stai vicino, ma non vuol dire da più in classe, stai vicino, stai vicino, apri e vai, fallo, basta, qui? Vado che va, è davvero affasc qualidade, sono avvio. Siamo dall'estruzione. Sono passando a destra, 1, 2, ok, c'è la specie di uscita, ma non l'altro. Un'altra e un'altra, 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 un'altra. Un'altra, 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 nulla. Grazie mille E' un'altra parte. bravo 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 bene a scala ok sinistra a destra verde bravo bravo ok ok occhio in quadro accendere il palazzo scusate accendere accendere perfetto accendere fino ok sinistra a destra accendere fino spostiamo tutto a sinistra bravo 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 ok stiamo avanti stiamo avanti prima guarda qui qua se facciamo un pezzo d'asfalto verde ci diamo un pezzo d'asfalto ok facciamo un strappoi scegliere c'è guiderato ebbè insomma il guiderato a 458 non è la cosa che capita tutti i giorni Ma se vuoi questo atteggiamento, quello comunque di andare passo per passo, se fate così divertite, questo è lo spirito giusto, ma vi divertite comunque andate anche a porte. Guarda vai pure davanti al fiotto. Ok fermati pure. Allora tieni premuto il freno e tira tutte le palette.